Attenzione, il video che state per vedere contiene linguaggi forti e volgari, non imitateli. Ma chi cazzo ci crede? E salve a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con GameZane. Tranquilli, non mi sono sbrotolato, mi sono lavato la faccia prima di fare il video ed è rimasta una macchia d'acqua, tranquilli. Sono qui in un video abbastanza particolare, ovviamente avrete visto dai commenti che vi ho fatto lasciare appunto con un piccolo sondaggio su Facebook. Siamo qui con InSegreto.it oggi. Cos'è InSegreto.it? È un sito in cui le persone anonimamente, anzi più che anonimamente diciamo dicendo solamente l'età e il sesso. Ovviamente della persona che sta commentando possono espletare i loro segreti al mondo. Ci sono delle cose davvero scioccanti che io oggi ovviamente vi mostrerò, ma vi faccio vedere qual è il commento che ha vinto il sondaggio. Il commento l'ha vinto Chiara Napolitano che ha scritto Assorbente. Quindi oggi andremo a cercare la parola Assorbente. Ma io devo iniziare subito, 3, 2, 1... Allora, siamo qui su InSegreto. Aggiungiamo Assorbente. Ok, cerca. Vediamo che ci esce fuori. Iniziamo con la prima. Donna, 15 anni. A differenza di tutte le mie amiche, quando ho le mie cose, mi sento viva e provo una specie di piacere nel pensare di girare con l'assorbente mentre nessuno lo usa? C'hai dei problemi, figlia mia. Donna, 17 anni. Ero a casa del mio ragazzo e stavamo scopando. All'improvviso trovo un assorbente, non mio, e gli chiedo di chi fosse. E lui disse, questo assorbente era solo di tua sorella. Mi sentì scossa e la mattina seguente vidi mia sorella con macchie trasparenti sulle gambe e sul seno. Non ci parlo da mesi. Quindi si è scopato la sorella della sua ragazza. Un genio! Donna, 17 anni, ma tutti 17 anni. A 13 anni ero nel bagno a cambiarmi l'assorbente. Dei ragazzi hanno forzato la porta e mi hanno fotografata. La foto dove si vedevano chiaramente la mia vagina pelosa e l'assorbente... Un attimo. Allora, la foto dove si vedevano chiaramente la mia vagina pelosa, mi immagino la scena, e l'assorbente sporco di sangue, mi immagino la scena, finirono in rete. Da allora vado in una scuola privata in Svizzera. Vi detesto con tutte le... Poverina, cazzo! Siete dei bastardi! Sempre donna, 17 anni. Ho un problema che mi crea non poco disagio. Ovviamente non lo sa nessuno, ma ogni volta che ho la vescica piena, avverto una sensazione strana, come di piacere, e divento incontinente. A volte me la sono davvero fatta addosso, e a volte quando vado in giro non ci sono bagni, evito di bere prima di uscire, o metto un assorbente, non lo sa nessuno, è imbarazzante. Questo si chiama problema, ragazza. Fatti visitare. Uomo di 15 anni. Oh, finalmente un cazzo di uomo. Ho una ciste nel pene. Oh, cazzo! Ho letto che bisogna bere tanto e fare molta urina, solo che non riuscivo a trattenere fino al WC. Decisi allora di prendere un assorbente di mia mamma. Sono rimasto bello asciutto per tutto il giorno a PS. Ovviamente me li cambiamo, ma che che... Va bene. Donna 15 anni. Ho provato a mettermi per la prima volta l'assorbente interno, e mentre iniziavo ad inserirlo sono svenuta? Mi meraviglio delle persone che ci ficcano altra roba. Perché sei svenuta? Scusami. E allora quando ti ficcheranno un... Sverrai sempre? Non l'ho capito. Donna di 34 anni. Ho una figlia di 12 anni, che da poco ha cominciato ad avere il ciclo. Essendo un'esperienza del tutto nuova, per lei il suo ciclo è del tutto abbondante. Così le compro spesso gli assorbenti da notte. Il problema? Un giorno mia figlia si è mangiata un casino di roba, svuotandomi il frigo, solo perché sull'assorbente c'era scritto che il ciclo aumenta il desiderio. Beh, meno male che non ha capito a cosa si riferisse, o chissà che altro avrebbe svuotato. Mammi orgogliosa, mammi felice, oh mio Dio. Vabbè ragazzi, alla fine avrebbe svuotato solamente il... di un altro ragazzo, non è che... No, no! Donna sempre 17 anni. Due anni fa, quando era a scuola, mi era venuto il ciclo, ma non avevo gli assorbenti. Allora, andando in bagno, avevo notato che c'era... che non c'era neanche la carta, e fu così che dalla disperazione presi un guanto invernale e lo usai come assorbente. Penso che tu quel guanto l'avrai buttato. E la cosa che mi domando è come hai fatto a giustificare a tua madre il fatto che il guanto fosse tutto sporco di... Ah! Donna di 19 anni. Ho un casino di perdite di urina dalla vagina. Scusate un attimo. Six and a half hours later. E... Ho vomitato. Ripeto, ho un casino di perdite di urina dalla vagina, e se non metto l'assorbente, le mutande si bagnano, ma il problema è che gli finiscono sempre. Un giorno era andata dall'estetista a farmi la ceretta, e avevo finito gli assorbenti. Una volta arrivata alle cosce, mi ha chiesto se mi ero pisciata addosso. Mio Dio. Donna di 17 anni. La prima volta che ho messo un assorbente interno, avevo una gran paura che la cordicella si strappasse e che poi non sarei riuscita a toglierlo. Rimase lì per quattro giorni. Sentendo una forte puzza, mi feci coraggio a riuscire a toglierlo. Ma hai avuto un'esperienza così brutta con gli assorbenti... Ma che schifo! Perché mi avete consigliato? Anzi, perché avete votato assorbenti? Donna di 21 anni. Vivo da sola, e ogni volta che mi tolgo l'assorbente interno, lo metto in una scatola, mi fanno eccitare, faccio alla collezione di Tampax? Ma che... Questi devono finire su real time in quei programmi tipo disagiati, tipo sepolti in casa. Questa sepolta dai Tampax in casa. Donna di 17 anni. Quando esco con i miei amici, devo sempre mettere un assorbente, questi se la violentano sicuro, anche se non ho il ciclo, perché fanno delle battute e il più delle volte mi faccio la BB sotto. Vescica ballerina si chiama, fatti visitare. Uomo, 16 anni, la vista del sangue mi provoca nausea, capogiri e anche svenimenti. Ho una cicatrice in fronte da tre anni. Harry Potter! È piuttosto evidente. E quando mi chiedono come me la sono procurata, racconto sempre di un incidente in bici. In verità, un giorno, aprendo il cesto dei rifiuti in bagno a casa, ho visto un assorbente sporco. Sono svenuto e cadendo mi sono ferito. Quando mi sono ripreso e alzato, vedendo il taglio, grazie allo specchio, sono svenuto di nuovo. Mi ha trovato mia madre. Tipo, buttato lì a terra morente. Oh figliolo, ma che stai facendo? No mamma, avevo la vista del... Si guarda allo specchio col sangue. Ah, boom! Donna di 14 anni. Quando ero piccola, mentre mi facevo il bidet accidentalmente, mi feci un... e persi sangue. Mia mamma, pensando chissà cosa, mi mise persino un assorbente. Quindi, anche se sono ancora vergine, mi sono praticamente sverginata senza saperlo. Le dita sono magiche! Donna di 15 anni. E' appena passata la mia prof di latino sotto la finestra di casa mia. Le ho buttata in testa un assorbente sporco. Le sue imbregazioni si sentono a 10 km di star madonna mia. Ti do il batticinque virtuale, genia! Donna di 14 anni. Un giorno avevo i leggings, che già a 14 anni avere i leggings, e essere... E il mio ragazzo è iniziato a... Mi sono bagnata i leggings, sono tornata a casa, e mia madre mi ha chiesto cosa foste successo. E io le ho detto che avevo avuto le mestruazioni, e non avevo l'assorbente. Eeeh, porcellina! Donna di 15 anni. Ogni volta che faccio ginnastica, mi metto l'assorbente, perché c'è il mio prof che mi attizza un casino e mi bagno? Abbiate un po' di contegno, per favore! Donna di 17 anni. Quando ho avuto per la prima volta le mestruazioni, avevo 9 anni. Cazzo prematura, ste ragazzine di oggi. Mia sorella più grande, l'assorbente lo chiamava pannolino, tra virgolette. Ero a scuola e mi scappava da pisciare. Avevo fiducia in mia sorella e quindi mi feci la pipì addosso, credendo che assorbiva anche quella, ma mi sbagliavo. Ma scusa. Che è risaputo che... Donna di 14 anni. Solo oggi ho avuto il ciclo per la prima volta. Ho lanciato un assorbente sporco in faccia a mio fratello, perché... Quello stronzo mi ha lanciato più volte preservativi sporchi sull'ed... All'ascoltami. Punto 1. Perché tuo fratello conserva i preservativi sporchi e te li lancia? Questo vuol dire che o era a casa quando c'eri tu mentre faceva qualcosa con qualcuna, oppure è deficiente e si mu*****a solo nel... Non lo so. O non so che cosa sta succedendo nella tua vita, ragazza. Donna di 16 anni. In quinta elementare quasi tutte le mie amiche era venuto il ciclo. Siccome non volevo essere l'unica ancora ad non averlo, presi un pennarello rosso e colorai la mia vagina e l'assorbente. Cazzo che hai fatto i baffetti? Non lo so. Donna di 14 anni. Non mi metto l'assorbente interno perché non so in che buco infilarlo? E poi perché ho paura che entri dentro anche la linguetta? Te lo dico io e te lo devi ficcare. Te lo devi ficcare nel... No, no! Donna di 17 anni. Un giorno ero in bagno a scuola e mi stavo cambiando l'assorbente. Ad un certo punto questo mi cade sul pavimento rivolto all'ingiù. La parte ovviamente dove c'è il sangue. E ho urlato Ma sempre dalla parte della marmellata deve cadere? Imitando Antonio Banderas. Ah! Ma sempre dalla parte marmellata deve cadere? Così forte che una prof mi ha sentito e mi ha mandato dalla preside perché ha detto che nei bagni è vietato mangiare. Ma fangulo coglione non era un panino la marmellata era un fottuto assorbente. Ma spiegaglielo cavolo Donna di 19 anni. La prima volta che ho dovuto mettere un assorbente interno avevo paura. Così una mia amica ha ricreato in bagno una sala ginecologica e me l'ha messo lei recitava la parte della ginecologa ed è stata bravissima. Non siamo lesbiche. Ho qualche dubbio. Soprattutto per la tua amica. Uomo di 21 anni. Fino a 15 anni ho creduto che l'assorbente e ammorbidente fossero la stessa cosa. Allora le cose sono due o tu hai dei gravi problemi o i tuoi cazzo di genitori ce l'hanno perché non ti hanno spiegato cos'è un ammorbidente. Va bene ragazzi io come al solito vi saluto spero che questo video vi sia piaciuto arriviamo a 100 mi piace come al solito per un prossimo video qui con In Segreto qui sotto scrivetemi nei commenti un'altra parola chiave da cercare per il prossimo episodio iscrivetevi commentate ci vediamo al prossimo appuntamento sempre qui con Zayne ciao ah ragazzi non so se ve l'ho detto ma sono su Instagram eh eh ciao 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 ciao